Il design entra a Palazzo Morosini Gatterburga Venezia e General Italia, amplia ulteriormente l'ospetto del proprio sostegno alle arti e alla cultura. L'occasione è la mostra Design After Darwin, evento principale del festival Design.v, immaginato per essere un evento diffuso in luoghi diversi e spesso poco noti della città lagunare. Francesca Giubilei è, insieme a Luca Bertha, l'ideatrice dell'evento e la curatrice della mostra a Palazzo Morosini. L'obiettivo di questa mostra era partire da un concetto base del design e quindi la funzionalità dell'oggetto, legandoci anche ironicamente alla teoria darwiniana e cioè alla capacità per sopravvivere, alla necessità per sopravvivere degli individui di adattarsi a contesti in rapida evoluzione. Per General Italia si tratta di un'esperienza nuova che ci è stata introdotta così da Lucia Sciacca, direttore comunicazione e social responsibility. È la prima volta che con General Italia e con Valore Cultura puntiamo anche sul design. Lo abbiamo fatto insieme a Design.v, questa rassegna internazionale, e lo abbiamo fatto perché ci ha colpito in particolare l'idea di avere una mostra collettiva, che è quella che si terrà qui a Palazzo Morosini, ma di avere anche 18 progetti espositivi in tutta la città di Venezia. L'idea di fondo è quella dell'accessibilità alla cultura, sottolineata con forza anche dal CEO e country manager di General Italia Marco Sesana, che ha poi aggiunto, nel suo saluto al pubblico dell'inaugurazione, un secondo concetto a lui caro, che la mostra porta con sé, quello di innovazione. Tra le opere in mostra, tutte legate a oggetti di uso quotidiano, ma quasi sempre interpretate in maniera non consueta, anche le fotografie del duo Stella e Clodel, nelle quali gli oggetti diventano in un certo senso elementi vivi. L'oggetto è fatto speziale per la foto, e dopo l'oggetto è il soggetto anche. E' quella cosa che è moltissima interessante, e noi siamo sempre questo discorso, da fare sentire tutto questo oggetto sull'umanità, che veramente diventi un soggetto. Il festival design.ve, di cui General Italia è main partner, si svolge in contemporanea con il primo mese della Biennale d'Architettura, fino al 17 giugno.